In chiesa! Senti, non ti arrabbiare, facciamo un patto. Ma ti ascolti la mia storia e io ti prometto che ti riporto in chiesa, va bene? Allora, c'è stato un fabbro col pisello a un cino che viveva nel Medioevo. Era un bel ragazzo. Tutte le ragazze del borgo avrebbero voluto sperimentare l'anomalia anatomica del bravo artigiano, ma questo aveva occhi solo per la via del mugnaio, una figa così brutta che la volerò mandante e la santa per favettare i mori e bruciare le bruciate. Il mugnaio però, quando sentiva la via parlare del fabbro uncinato, gli aveva una sincope e le disse che non lo doveva proprio manco vedere, ma proprio manco per niente, ma proprio manco fotografia. Un giorno però al mugnaio partì per un lungo viaggio e il fabbro ne approfittò per andare a trovare la ragazza. Questa però gli disse che se voleva giocere con lei si doveva raddrizzare il pisello e fallo torna dritto. Allora sto rincoglionito del fabbro, torna a casa e passa tutta la notte a martellasse il pisello. Martella, martella tutta la notte, alla fine si ritrova sto pisello tutto martogliato, ma finalmente dritto. Corre dalla via del mugnaio e tutto contento gli fa vedere l'attrezzo. Questa come lo vede fa una faccia tutta delusa e gli dice, Vio mio, mostro cose dritto, ma fallo venì su così tutto ciancicato, ci vorrebbe una gru. Ma purtroppo lamenteremo tra cinque secoli. Oh, oh, oh.